Buonasera a tutti, grazie per essere qui in questa giornata speciale dedicata a un artista dall'animo gentile, qual'era Massimo Troisi. Desidero innanzitutto ringraziare il promotore dell'iniziativa, il senatore segretario Marco Silvestroni e tutte le istituzioni per aver voluto ricordare e celebrare Massimo in occasione del settantesimo anno dalla sua nascita. Le ringrazio anche perché hanno compreso subito, devo dire, con grande sensibilità e spirito anche di partecipazione l'importanza e il senso profondo di questa iniziativa. Quest'oggi appunto ricorderemo la figura di Massimo attraverso questo emozionantissimo film, Da domani mi alzo tardi, del regista nonché nipote di Massimo Troisi Stefano Veneruso, che ringrazio per essere qui oggi. Un film che a me piace definire come una sorta di ritorno ad Itaca dopo vent'anni del nostro protagonista. È un viaggio nel periodo ipotetico della possibilità, vissuto tutti occhi negli occhi con la protagonista femminile, il suo alter ego, compagna di vita, di lavoro, di emozioni, la sceneggiatrice Anna Pavignano, che ringrazio anche lei per essere qui con noi oggi. Vi introdurrò tra poco, però desidero comunque intanto ringraziare tutto il parterre dei relatori, dal sindaco di San Giorgio Acremano, Giorgio Zinno, alla produttrice del film Barbara Di Mattia, all'artista, grandissimo artista e amico di Massimo Enzo De Caro, perché ci racconteranno, ci forniranno delle preziose testimonianze e perché so per certo quanto sia profondo il loro legame anche con Massimo, perché hanno avuto il privilegio, la fortuna di poterlo vivere nei suoi anni migliori. Prima però di raccontarci tutto questo lascio la parola al senatore Silvestroni per i saluti istituzionali. Lo facciamo direttamente da qui senza andare sul podio. Chiaramente è un onore per me ma anche per il Senato ospitare oggi la visione di questo film voluto da Stefano, da Stefano Veneruso che è il nipote di Massimo Troisi, come tutti quanti voi sapete, e che avendo vissuto con lui i sette, mentre Massimo Troisi girava i film, quindi ha preso il vizio, chiamiamolo così, ha preso tutte le parti importanti e buone di Massimo Troisi per diventare un grande regista. Il film, questo che proprio Stefano vi diceva non è un film biografico ma è un qualcosa di molto bello che trasmette la passione e l'amore che aveva Troisi per per la sua attività, che era quella della recitazione. Sempre come mi diceva prima proprio Stefano, Troisi era un, oltre che un grande attore, riusciva a mandare con grande semplicità e grande naturalezza dei messaggi che ancora oggi sono sicuramente attualissimi. Quindi con questo film oggi credo che Troisi avrebbe avuto i 70 anni e quindi questo film in realtà ci fa rivivere Troisi come se lui fosse qui con noi oggi. Quindi è una cosa che c'è un'ora, che è un'ora come diceva il Senato, è già stato trasmesso questo film alla Camera dei Deputati, quindi io ho voluto rifarlo vedere anche qui, di trasmetterlo qui al Senato perché era giusto farlo anche qui al Senato. E chiudo il mio intervento con una frase e una considerazione che ho scritto dove Troisi diceva, se mi accostano a Totò e Edovardo a me sta benissimo solo loro che si offendono. Mentre invece io credo che Troisi è stato insieme a loro un grande attore e questo film ne rende sicuramente merito. Grazie. Grazie Senatore per le sue preziose parole, davvero che si ottolinano come Troisi oggi sia per noi una vera e propria istituzione perché il suo linguaggio, il suo modo di fare, il suo modo di esprimersi sono ancora vivi nell'immaginario collettivo e nella nostra memoria e sono soprattutto capaci di parlare intere generazioni e tutt'oggi lo sanno fare con una grande spontaneità. A questo punto lascerei la parola a colui che oggi rappresenta la città natale di Massimo Troisi, San Giorgio a Cremano, il Sindaco Giorgio Zinno. So per certo che Massimo era legatissimo alla sua città nonostante la vita poi per ragioni di cuore e professionali lo abbia portato altrove. Prego Sindaco. Sì, buonasera a tutti. Io ovviamente voglio ringraziare in primis il Senatore Silvestroni per aver reso possibile questa giornata qua al Senato, un luogo così importante per la nostra nazione ma in questo caso anche accogli e uno forse degli artisti più importanti d'Italia e lo dico non solo da San Giorgese e quindi da persona che ama il suo territorio e ama le persone che rappresentano quel territorio ma anche da italiano che guarda in Massimo Troisi non un attore, non un regista, non un poeta ma un uomo in primis che portava dei valori fondamentali avanti ed era un artista poliedrico quindi una persona che ha rappresentato il suo territorio. Quando si dice legato al territorio mai come Massimo Troisi probabilmente un artista si è sentito legato al suo territorio d'origine. San Giorgio oggi ospita anche Alighiero noschese che ha scelto di vivere o meglio di terminare la sua vita a San Giorgio ma non era san giorgese Alighiero noschese ma Troisi ha sempre portato anche nelle sue interviste nei suoi momenti di libertà San Giorgio come esempio e quindi noi come comunità non possiamo che cercare di portare avanti quello che è il messaggio che lui portava e anche lo stesso fatto che le nuove generazioni. Noi abbiamo un lavoro continuo con il mondo della scuola perché Massimo Troisi venga visto nelle scuole, venga analizzato nelle scuole perché poi abbiamo fatto anche un ottimo lavoro con la Federico II rispetto alla visione di Massimo Troisi come artista e tra l'altro ero con Stefano e con Enzo De Caro quando è stata data la laurea onoris causa dalla Federico II. Quindi è un percorso che negli ultimi anni ha visto sempre più discutere la figura di Massimo Troisi non solo come artista ma anche come grande figura culturale del nostro contemporaneo ovviamente. Nel film il comune in qualche modo ci è voluto entrare perché con Stefano si era già fatto un primo percorso su altre attività e lo dirà sicuramente Stefano ma il nostro orgoglio è che il film buona parte, ovviamente le scene del mare no, ma buona parte è girato sul nostro territorio e nelle nostre ville quindi anche con questo Stefano ha dimostrato il legame che Troisi anche dopo tantissimi anni anche in questo film che io ho visto ed è stupendo perché l'abbiamo visto tutti col cuore di rivedere Massimo Troisi ma anche in questo Massimo Troisi in questo film si ricollega al suo territorio con i sette cimennatografici e quindi il luogo dove viene girato. Quindi io vi ringrazio Stefano per averci regalato un altro pezzo di percorso ovviamente anche Anna Pavignano, Barbara, Di Mattia che hanno portato avanti insieme a lui questo bellissimo percorso e mi permetto con Enzo De Caro ultimamente ci vediamo spesso su varie attività con lui ormai c'è un legame porticese, non è proprio perfetto perfetto, è porticese però come si dice siamo così vicini e ci vogliamo sempre bene quindi grazie a Stefano per questo percorso Grazie Sindaco, grazie anche a lei per le sue bellissime parole perché ci riportano un po' indietro nel tempo e ci riconducono un po' anche una sorta di passato nostalgico per tutto quello che Massimo ha rappresentato e come ha detto giustamente lei continuo a rappresentare anche oggi. Mi dà anche l'assist per appunto presentare i protagonisti della giornata che ho citati prima, le ricito la produttrice Barbara Di Mattia il regista Stefano Menoruso, la sceneggiatrice Anna Pavignano, c'è anche da dire che è sceneggiatrice di questo film ma di tutti i più celebri film di Massimo Troisi e autrice anche dell'omonimo romanzo Da domani mi alzo tardi che vi invito assolutamente a leggere perché è un viaggio ancora più se vogliamo accurato e accorato nei sentimenti di Massimo e Anna visto dagli occhi della protagonista. Prima di passarvi la parola solo un piccolo ricordo, il 15 settembre 1989 Massimo Troisi era a Venezia perché aveva vinto la Coppa Volpi e ex equo con Macello Mastroianni per il film che ora è tra le scuole. Quindi è per me una doppia emozione essere qui in questa giornata proprio in questa data solo qualche anno dopo. Mi lascio intanto la parola. Allora io sono molto emozionata di essere in questa meravigliosa sala però grazie senatore Silvestroni ringrazio anche gli ospiti qui seduti con noi, Zinno, Anna Pavignano, Enzo De Caro e Serena Tribelloni oltre che Stefano Veneruso. Permettetemi poi di ringraziare perché lo vedo qui seduto in seconda fila Edoardo Angeloni che è il nostro partner produttivo ed ha creduto nel nostro progetto sin dall'inizio quindi grazie Edoardo. Grazie, mi inserisco anch'io. Volevo ringraziare poi, vedo seduto in ultima fila, Fabio Surmani che è il montatore del film Giorgio Amendola dello Studio Mago e vorrei ringraziare poi Dimitri Sassone perché lavoriamo con lui fianco a fianco e stiamo lavorando alla preproduzione del nostro prossimo film che dovremo iniziare le riprese a febbraio. Io durante le riprese del film se mi avessero detto un giorno ci sarà la proiezione del vostro film alla sala Zuccari in Senato avrei dato del folle a chiunque e quindi sono molto felice di questa opportunità, di questa occasione e sono felice di condividere questa gioia con tutti voi. Ho avuto l'onore di produrre questo film con Stefano Veneruso che sapete già che è il nipote del grande Massimo Troisi e nonché regista del film e quest'opera è l'esempio emblematico del cinema indipendente. Per noi è stata una fatica immane perché abbiamo finito le riprese proprio a ridosso dello scoppio della pandemia e abbiamo lavorato alla postproduzione che è una fase molto delicata e complicata durante tutto il lockdown. Quindi è stata ancora di più una fatica oltre la fatica. Noi sogniamo, produciamo sogni e questo sogno ha trovato la distribuzione anche in Medio Oriente. Stiamo lavorando affinché avvenga anche una distribuzione internazionale e siamo contentissimi di questo. Quindi dico, sosteniamo il cinema indipendente perché è importante continuare a raccontare storie ed è importante sognare. Vi auguro una buona visione, vi ringrazio e viva Massimo. Massimo toccherebbe a me, io sono veramente emozionato, non ci sta una parola più di emozionato ma molto più di emozionato insomma. Però Massimo ci ha anche abituati a questi eventi. A distanza di 30 anni è straordinario sentire l'affetto e l'ammirazione per Massimo e infatti siamo qui per questo. Intanto ringrazio il senatore Silvestroni tantissimo, ringrazio il sindaco della nostra amata San Giorgio Acremano e che come accennava lui prima negli ultimi anni insomma ci è capitato spesso di collaborare ad iniziative importantissime. Tra l'altro il premio Massimo Troisi è diventato una realtà veramente importante e cresce sempre di più e quindi grazie sindaco. E poi ha avuto un ruolo, devo dire, quasi determinante dal punto di vista di mio fratello proprio totale perché mio fratello era produttore esecutivo di questo film. Raffaele Beneruso che ringrazio, senza di lui non penso che avremmo potuto realizzare questo film però senza anche questa intuizione anche quasi insistente nel senso che aveva capito lo spirito del film quando andai a parlarci a San Giorgio e lui mi disse devi vedere questa casa, questa villa vesuviana bellissima, accanto alla quale io nella mia infanzia, ho vissuto a San Giorgio Acremano da 0 a 15 anni poi i miei si sono trasferiti a Roma per noi ma anche soprattutto per stare vicino a Massimo insomma. E quindi io mai mi aspettavo di trovare questa bellezza che vedremo nel film ma non solo, oltre ad essere bella, è una casa che ha risolto un problema produttivo perché non so come mai ma questa casa ha due facce, a noi servivano due case, due facciate proprio completamente diverse parliamo di una casa credo del 700 insomma, 400 e poi dopo è stata, sono state ricostruite delle parti eccetera e quindi grazie Giorgio di questo e poi che dire insomma Barbara è qui e hai espresso delle cose per me che hanno segnato e che continueranno a segnare il percorso di ogni singola produzione che non è mai cioè che sempre io lo chiamo la trincea della produzione perché insomma soprattutto quando si realizzano film indipendenti è molto difficile. In questo caso avevamo come dire una persona, un personaggio, un artista così importante quindi apparentemente poteva essere un percorso più facile e per certi versi lo è stato quindi produttivamente. Invece Barbara non ha mollato mai di un secondo, siamo andati dritti come un treno quindi ti ringrazio infinitamente. E poi che dire insomma di Anna, Anna è il cuore, l'anima è in questo film tratto dal suo meraviglioso romanzo, quando l'ho letto sono rimasto proprio folgorato a dir poco perché io ho letto credo una dozzina di anni fa, forse pure qualcosa in più, appena uscito e leggendolo ho visto un film con la faccia di Massimo, con Massimo, per cui quando e ho scoperto soprattutto un Massimo che non conoscevo perché è il Massimo di Anna ed è l'Anna di Massimo, non so come dire scusate il gioco di parole però è così e quindi non potevo conoscere, nessuno poteva conoscere quella storia speciale che è stata sia lavorativa che creativa. Anna con Massimo ha scritto insieme hanno scritto un pezzo di storia del cinema da Ricomincio da Tre al Postino e per cui io la prima cosa che ho pensato, ho visto il film però ho detto non si può fare perché chi interpreterà a Massimo e invece poi abbiamo capito che si doveva andare oltre la somiglianza che non c'era bisogno, non era necessario e quindi in maniera quasi casuale è arrivato quest'attore secondo me straordinario che è John Lynch forse ce lo ricordiamo per Sliding Doors e lui tra l'altro è di madre italiana ma non parla una parola a lui irlandese e quindi quando l'abbiamo incontrato io nei suoi occhi ho visto uno sguardo la malinconia che è la gioia di Massimo e ci siamo avventurati. Poi quindi diciamo che sicuramente attraverso il film, questo film e il libro anche ovviamente ci avvicina veramente tanto secondo me Massimo nella sua personalità, nel suo modo di essere, di pensare e anche di far ridere. E poi è arrivato un altro, non voglio svelare ancora troppo ma è arrivato anche un altro miracolo che Massimo avrebbe detto miracolo da cento punti che è un brano che ascolteremo, un brano inedito di Pino Daniele che si chiama Sire Nuse, cantato da Pino Daniele che secondo me stava proprio lì aspettando, sembra proprio scritto, Massimo loro giocavano su sta cosa, io scrivo i film per le canzoni di Pino Daniele, in questo caso è veramente straordinario, senza essere didascatico secondo me è la sintesi di questo film e mi piace chiudere con questo pensiero di Massimo su Pino Daniele dove Massimo diceva, una volta disse, se i nostri ruoli si invertissero all'uno piacerebbe essere l'altro con Pino Daniele, se cantassi mi piacerebbe essere Pino Daniele e chiudendo dicendo perché in fondo seppur con mezzi diversi raccontiamo le stesse cose quindi evviva Massimo, evviva Pino e grazie Buongiorno, mi associo ai ringraziamenti che sono stati fatti al senatore, al sindaco e ai miei compagni di percorso e anche di vita e poi ringrazio voi per essere qui e per ascoltare e per avere ancora un'emozione da condividere con noi intorno a Massimo è passato molto tempo da quando io ho scritto il libro e in effetti, allora l'ho scritto nel 2006, è uscito nel 2007 e sì, se mi avessero detto così come c'è l'incredulità di Barbara rispetto a avere una proiezione qua per me se mi avessero detto nel 2006 che io scrivevo un libro su cui, cioè che ancora le persone leggono che ancora vende anche se insomma non è l'aspetto principale e poi il film e poi tutte queste proiezioni per ricordare Massimo in effetti non ci avrei creduto perché poi i libri spesso anche i bestseller hanno vita breve e invece questo libro pur non essendo mai stato un bestseller però è un libro che accompagna il ricordo di Massimo da quando l'ho scritto e che continua a raccontare di lui e questo è il motivo per cui ho scritto questo libro, uno dei motivi perché io pensavo da subito, forse anche quando Massimo c'era ancora, che io avrei voluto raccontarlo e raccontare il mio punto di vista personale, privato, su di lui e però ecco, ho perso il filo perché ho detto troppe cose e comunque ecco, questo libro l'ho scritto per ricordarlo ma anche per un'esigenza mia io avevo bisogno di parlare di lui perché come tutti forse quando perdiamo una persona cara, importante nella propria vita per me è una persona determinante, sentiamo poi il bisogno di rientrare nei ricordi e devo dire che per me scrivere il libro è stata un'esperienza forte perché è come se attraverso i suoi ricordi lui fosse realmente, mentre scrivevo in qualche modo ho tornato, l'ho sentito vicino e io spero ecco, questa emozione che io ho avuto scrivendo di essere riuscita a trasmettere attraverso il libro e anche che in qualche modo sia passata nel film Il libro, brevemente vi accenno, parla di un massimo che io ho immaginato non è mai morto si è ritirato in campagna, cosa che era un suo desiderio e poi decide di tornare il libro racconta l'incontro fra me e lui al suo ritorno e anche il film racconta questo chiaramente un film ha meno spazio per cui mentre nel libro ci sono anche dei ricordi veri non c'è solo questa realtà inventata che io ho reinventato per poter stare ancora con lui ma ci sono anche appunto dei racconti di cose realmente accadute dei sentimenti veri, delle dinamiche che ci sono state fra noi anche se comunque scrivendo tutto viene trasformato e filtrato dal ricordo, dalla scrittura e dalla creatività nel film c'è questo incontro e questa immaginazione di questo uomo che diciamo è ispirato a lui ma a una parte di lui e forse alla parte meno conosciuta perché noi abbiamo in mente il massimo più divertente, più allegro pur con la sua profondità e qui forse c'è l'aspetto più introverso più melanconico che in qualche modo era un aspetto che gli apparteneva e quindi ecco insomma nel film mi sembra che ci sia molto poi c'è questo racconto di quello che è stato il nostro rapporto anche quello, vabbè, filtrato sempre e dalla creatività e dal regista dalla scrittura insomma ci sono tanti filtri questo film non è poi la realtà però spero che sia ecco un bel un bel modo per ripensare a Massimo l'ultima cosa che vorrei dire è che ecco è importante me ne sono convinta nel tempo continuare a vedere i film di Massimo è il modo migliore per ricordarlo e soprattutto per continuare a coltivare in qualche modo quello che è stato il suo messaggio era un messaggio legato alla vita privata e a come l'approfondimento di certi valori attraverso il privato possa in qualche modo cambiare la società e quindi in questo senso è importante ecco continuare a in qualche modo meditare su quello che Massimo ci ha lasciato quindi buona visione e grazie ancora a tutti grazie Anna grazie le tue parole sempre molto emozionanti io l'ho lasciato Dulcis in fundo è un grande artista autore insomma un grande amico di Massimo lo ringrazio davvero per essere qui oggi che io scusami non ho ringraziato prima ma ringrazio infinitamente adesso e Enzo scusami l'emozione l'emozione però grazie assai è la tua festa puoi fare quello che vuoi io lo ringrazio perché ha sempre raccontato tra l'altro nelle varie interviste che ho visto la figura di Massimo con un grande senso del garbo della riservatezza con delicatezza e con affetto quindi è un piacere ascoltarti oggi ti lascio la parola Enzo è sempre estremamente difficile ma poi a un certo punto necessario in queste situazioni un po' pubbliche e anche buffamente direi istituzionale perché se c'era una persona che aveva uno sguardo certamente attento critico e non compiacente con non tanto con le istituzioni ma con le forme di potere delle istituzioni ecco questo è stato Massimo in tutte le sue forme ma tutti i poteri non solo quello come dire politico rappresentato oggi qui ma quello storico religioso sociale la generazione a cui noi appartenevamo era semplicemente una generazione di giovani cittadini che si sentivano molto a disagio con la realtà circostante che certamente non non li rappresentava non lo piaceva quello che c'era intorno per cui in quegli anni c'è stata un'altra parte di generazione che ha pensato scelleratamente di combattere il sistema con le armi con la forza col terrorismo e poi c'è stata per fortuna noi siamo capitati in un'altra branca che pensava di poter se non cambiare certamente la necessità di dire le cose che pensavano con il teatro comunque con la comunicazione certamente il successo la popolarità sono delle cose belle gratificanti non erano proprio programmate non era l'obiettivo l'obiettivo invece irrinunciabile di anche di quei tre ragazzi di cui oggi io ho qualche anno in più della somma totale dell'età di tutti e tre quindi di quei giovani ragazzi c'era invece una grande necessità di comunicare andare a scardinare delle credenze del che venivano imposte qualche volta contrabandate come verità le credenze il mito sono una cosa importantissima però su un'altra cosa la verità è un'altra quindi cercare dovunque era possibile un pizzico un barlume uno spicchio di verità e Massimo in questo è stato assolutamente di una coerenza a volte disarmante perché ha sempre cercato a partire da lui stesso la sua propria verità che poteva cambiare nel tempo ma non non si è mai tradito come persona ecco forse è stata l'unica persona a cui è stato veramente profondamente fedele lui stesso che è un'impresa non da poco mi fa molto piacere invece ecco proprio essere in una sede importante e istituzionale come questa perché continua a dare spazio a come dire a una delle tante personalità non solo artistiche ma sociali politiche di pensiero ecco di Massimo che sta avuto alla sua consagrazione il giorno del suo compleanno a febbraio il settantesimo del compleanno quando la mia università l'università che ho fatto io la Federico II ha voluto riconoscergli questa laurea honoris causa la memoria in arti musica e spettacolo riconoscendo non tanto e non solo i grandi attori i grandi artista eccetera eccetera ma soprattutto un uomo di pensiero ecco questa è quella cosa che credo che nel tempo possa essere sempre più coltivata sempre più anche densa di sorprese perché poi quel pensiero i semi di quel pensiero vengono raccolti laddove uno non se l'aspetta ci vuole un terreno fertile ma ci vuole anche un seme e questo seme di Massimo come uomo di pensiero a tutto tondo è la cosa che certamente potrà continuare a riservare molte sorprese perché continuerà a germogliare perché il seme è multiforme ed è profondo e la prova è proprio questa 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 lavorazione questa produzione questa visione di oggi perché sappiamo benissimo che arrivare a concretizzare un'idea in un libro in un film in uno spettacolo è sempre estremamente complicato perché richiede una serie di professionalità mettere insieme tante persone quindi il fatto che comunque si arrivi ad avere un manufatto una cosa che esiste è sempre un piccolo miracolo per cui c'è anche l'emozione di vedere per noi sempre il piccolo Stefano però a 50 anni non sei più il piccolo Stefano appunto e te lo devi accettare questa situazione che viaggiava appunto con noi e sta facendo e farà il suo percorso professionale però mi piace tanto che abbia accettato di di avere questo compito o come ognuno lo fa per il suo accanto alle nostre professioni di avere un pezzetto eredità non tanto e non solo di sangue ma proprio di pensiero continuare a portare il pensiero di Massimo tra l'altro mi dicevi che questo film sarà visto fuori d'Italia avrà delle produzioni delle distribuzioni anche all'estero e questa è una cosa che mi piace molto perché il il pensiero di Napoli il pensiero di Massimo che nasce da anzi no ma già sta accorta come parla perché il sindaco di San Giorgio a Cremano dice che io sono di Portici però il pensiero di Napoli quindi dobbiamo stare molto attenti la cosa invece che voglio dire è che il pensiero di Massimo è un pensiero planetario è il pensiero di questo pianeta è la versione migliore del del pensiero di questo pianeta e anche voi lo vedete che frequentate queste aule così importanti quante volte accanto all'esibizione alle parole quando non c'è un vero pensiero dietro quello che le persone i politici eccetera eccetera dicono la cosa finisce lì quando c'è un pensiero dietro invece veramente si possono produrre miracoli a volte si vedono delle immagini anche non belle di aule vuote su dei temi importanti queste aule che sono rimaste vuote in questi giorni su dei temi molto importanti oppure vedere la forza oppure ecco se potesse essere preso un pezzettino di scalino di queste aule così importanti la forza mite di Massimo perché Massimo noi lo conosciamo è stata una delle persone personalmente una delle persone più miti che io abbia conosciuto cioè era anche snervante di non riuscire a litigare avere una discussione con lui ma era una persona di grandissima forza perché come i grandi miti non solo i miti ma anche i miti miti come lui non non retrocedono di un passo dalla loro idea quando la riconoscono giusta per cui ti esasperano con la loro mitezza forte ed è una cosa che per esempio tanti di noi cittadini si augurerebbero di vedere anche nelle aule parlamentari meno forza meno mitezza ma più forza mite magari supportata dal pensiero dal pensiero di Massimo il suo percorso nasce dalla poesia termina con la poesia e io sono veramente anche molto grato a queste due persone vabbè Anna fa parte della nostra della sua storia oltre alla sua carriera professionale ma il fatto che negli anni come delle formichine il sindaco le persone che gli stanno intorno anche la comunità di San Giorgio a Cremano anche di Portici di Napoli ma la comunità italiana abbia fatto in modo e questo tuo film Stefano lo farà anche di suo che finalmente nel tempo mentre mi piace anche vedere qui vedo i nostri amici della italiana attore Carlo Piero Mauro perché Massimo è stato quando la salute gliel'ha permesso è stato un amante non del calcio ma del pallone il calcio ha una visione economica di business che non gli apparteneva ma un amante del pallone della sfida e di tutto quello che questo sport ci richiede però ecco mi auguro che anche con questo film continui questo questa grande maratona oramai quasi arrivata a compimento per cui nel giro di una generazione San Giorgio a Cremano ha smesso di essere la città dove mio padre ha fatto il militare ma è diventata la città di Massimo Troisi ecco questa è la cosa più bella è che il suo pensiero continui a dare semi e frutti che daranno semi e ancora frutti e grazie per aver accolto aver compreso l'importanza di dare anche proprio una paternità istituzionale al suo pensiero oggi è veramente necessario auguri a tutti grazie grazie davvero c'è poco altro di aggiungere se non augurarvi buona visione anzi buon viaggio nella speranza ricollegandomi un po' al discorso sia di Enzo che di Anna e faccio un appello alle istituzioni che iniziative come queste ne seguono insomma ce ne siano sempre di più ne seguono altre perché parafrasando qualcuno un paese senza memoria è un paese senza identità senza storia e Massimo Troisi insieme ai grandi del cinema della letteratura della musica della filosofia hanno reso grande questo paese e sicuramente sono entrati a far parte della sua storia grazie a tutti e buona visione grazie 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 Grazie.